Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, sarò schietto e sincero come sempre. La Super Lega è un'operazione di eugenetica calcistica, è il trionfo del calcio del capitalismo globale e il trionfo di un calcio che sradica ogni legame con la terra, con le comunità di tifosi e il calcio liquido, televisivo, finanziario, speculativo e il calcio che però ha preso questa direzione ormai da decenni e dalla fine degli anni 90 il calcio ha preso questa direzione è un giocattolo nelle mani di ricchi signori che vogliono fare soldoni, che vogliono realizzare profitto e dunque abbiamo venduto l'anima al diavolo e adesso ne paghiamo le conseguenze. Provate a seguirmi in questo ragionamento. Questo tipo di globalizzazione liberista, capitalista, finanziaria che non è la globalizzazione dei diritti, delle culture, che non è la globalizzazione dei diritti dei lavoratori, dei studenti, dell'ambiente ma la globalizzazione del denaro, del profitto si sta mangiando tutto, si sta mangiando l'istruzione, la sanità e si è mangiato lo sport, si è mangiato lo sport da tempo in modo particolare quale sport? quello che porta più denaro, perché porta più denaro? Perché è più popolare, perché è più amato, perché è più prodotto, perché è più merce. Il calcio è dato una merce tra le merce, come tutti gli altri spormi è una merce più appetibile perché ha più consumatori. Abbiamo venduto tutto, abbiamo lasciato che ci venisse sottratta l'arte, la cultura, il cinema, l'intrattenimento, ripeto, l'istruzione, i parchi, l'ambiente, la sanità. A parte alcune eccezioni, a parte alcune resistenze, abbiamo lasciato che tutto venisse appunto divorato dal profitto e ovviamente quando tu vendi l'anima al diavolo, il diavolo se la pappa tutta la tua anima e non ti restituisce niente, anzi, se va bene, ti restituisce un'anima appunto di plastica. E questo è il prezzo da pagare, è il prezzo da pagare. Magari ci saranno delle resistenze, la Superlega, ma vedrete che poi la maggior parte dei club si adegueranno. Anche perché sentire la FIFA e l'UEFA che protestano contro questi 12 Superlega fa ridere. La FIFA è quella che ha dato al Qatar i mondiali di calcio. Al Qatar sono morte più di 3.000 persone, lavoratori, per realizzare gli stadi. Va bene, questi mondiali avvengono nella violazione dei diritti del lavoro, nella violazione dei diritti sociali. E alla FIFA andava benissimo che per il dio del denaro si vendessero al Qatar ovviamente i giochi, i mondiali di calcio. Aggiungiamoci l'UEFA che protesta l'UEFA. La fila di Coppa Campioni, la Turchia di Erdogan, quella in cui ci sono decine di migliaia di persone in carcere. Quella Turchia che tutto sapete, che tratta così i migranti, che tratta così le donne, che massacra e bombarda i curvi. Dunque stiamo parlando di organizzazioni a delinquere, di persone corrotte, di persone che tentano proprio di realizzare il profitto su tutto. Venderebbero le loro madri pur di fare profitto. Dunque la Superlega ripete l'eugenetica del calcio. Scegli i 12 club più ricchi che poi diventeranno 15, lascia un contentino a 5 altri club che saranno sempre molto ricchi di entrare in questo gota di 20 squadre. 20 squadre che si giocheranno appunto una Superlega, anziché la Coppa Campioni ci sarà la Superlega. Come c'è già l'Eurolega nel basket, cioè di fatto delle franchigie chiuse. 15 squadre, adesso ci sono 6 inglesi, 3 italiane e 3 spagnole. Vedrete che arriveranno anche un paio di francesi, arriveranno le 3 tedesche, comunque saremo lì, saremo lì. A quel punto nasce questo super prodotto globale. Vediamo se poi gli spettatori, i tifosi, si rifiuteranno, lo boicotteranno. E' comunque un azzardo quello che tento, ma il capitalismo azzarda anche. Il chiuso globale azzarda. La macchina è troppo grande, è uno star system che abbiamo voluto. I Ronaldo, i Messi, i Mbappé, sono delle superstar che prendono, gli Ibrahim, delle cifre che sono senza più senso, non sono più correlato neanche con quella di me. Sono sportiva, ma la domanda offerta, domanda offerta. Noi ci prendiamo questo, domanda offerta. Io ripenserò ai derby col Toro degli anni Ottanta, alcuni ripenseranno le partite tra Inter e Verona, il Milan e il Benevento, si ripenseremo alle vecchie coppe delle coppe, alle coppe UEFA. Tutto chiaramente cambia, ma cambia nella direzione del capitalismo globale, del fare profitto. I fondi sono entrati nelle progetti delle scuole di calcio, i scicchi sono nelle scuole di calcio, il capitalismo rispetto a Nostrano cerca di stare al passo. La Juve è la squadra del capitalismo italiano con più soldi che tenta. L'Inter e il Milan sono ormai in fondi, un fondo americano. Il Milan, un fondo strastato e privato. La Cina, lo stesso vale per il Manchester United, un fondo americano. E poi ci sono i capitalismi di Serie B. Serie B sono Cairo, che sono appunto, De Laurentiis, Lotito, che cercheranno magari di trovare un posticino tanto per entrare, oppure si spartiranno le altre piccole briciole che ci sono. Ma questo è il calcio. È un prodotto, è un prodotto come tale che va venduto, è un prodotto per fare il massimo del profitto. Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, sono già dichiarate disponibili a comprare il prodotto della Superlega. E c'è solo un modo per farlo saltare, che si chiama resistenza, si chiama anticonforilio. Diciamo basta, a noi a questo calcio diciamo basta, non ci piace più. Arrivederci, amore, ciao. L'unico strumento che noi abbiamo è quello non di essere resilienti, ma di essere resistenti, di dire a questi signori del calcio arrivederci. Ma dobbiamo già dirlo ai signori della televisione, ma dobbiamo dirlo anche ai signori dei prodotti globali, dobbiamo già dirlo anche a tanti politicanti che hanno svenduto i beni comuni. Dove eravamo quando svendono i beni comuni? Dove eravamo? L'acqua, ripeto, l'acqua, la sanità. Cari amici della Lombardia, dove eravate quando privatizzavano la sanità? È più importante la sanità venduta, è più importante vendere il prodotto calcio. Non lo so, dico a Lombardia, dico al mio Piemonte, i beni comuni vengono pappati da banche, da gruppi privati. Andiamo a svegliarci. Ormai fosse troppo tardi, io ci credo sempre. Svegliamoci. Il calcio è un bene comune, se lo dobbiamo riprendere, ma come il bene comune è il calcio, lui è lo sport nei nostri quartieri. Devo chiedere investimenti per lo sport che fanno i nostri figli, non gli investimenti per gli sport che praticano Ronaldo, rispetto a Messi o altre personalità. Siamo addormentati, siamo costantemente addormentati, anestetizzati e dunque non reagiamo più. Il non reagire più ha portato chiaramente a tutto questo. Il fatto che ci si indigni per il calcio dopo la salita alla scuola la dice lunga su come la vecchia talpa del capitalismo globale ha saputo scavare. Stesso tocca a noi contro scavare. Scaviamo, scaviamo, che magari poi il sistema, boom, crolla. E il calcio dei ricchi, lo era già prima, questo è certificarlo ancora di più, e il calcio dei potenti, lo era già prima, solo che più potenti, più potenti, più potenti, non ha mai fine. Ormai è un mostro questo sistema di calcio che per vivere ha bisogno di fondi esorbitanti. Per quello questi club faranno la Superlega, perché il Milan, l'Inter e la Juve prendono una caterva di soldi. Così il Real Madrid, così farà il Tottenham, così farà il Liverpool. Noi tifosi potremmo dire basta. Proviamo a dire basta. Non so se basterà a dire basta. Noi però dobbiamo provarci. Un abbraccio a tutte e a tutti.